Nuvole, si è parlato di fumetti alla Biblioteca Antoniana. Marco Ferrandino, come è andata? È andata molto bene, abbiamo avuto il piacere della collaborazione degli alunni dell'Istituto di Grafica del Telese che ci hanno fatto compagnia in questo percorso di quattro appuntamenti dove abbiamo avuto l'inaugurazione con Peppe Ferrandino, che è un noto autore ischitano molto famoso, esperto sia di letteratura classica che di fumetto poi c'è stato Ernesto Pugliese, che è professore all'Accademia di Bellearte e ci ha fatto il piacere di visitarci per illustrare ai ragazzi le tecniche della letteratura disegnata poi c'è stato Lorenzo Ruggero, che è un disegnatore della Marvel, quindi dell'Uomo Ragno i ragazzi là si sono divertiti tantissimo perché era proprio il loro pane, i cinecomics i cartoni animati ispirati ai supereroi americani e poi abbiamo chiuso con Enzo Troiano e il professor Longo, un fisico e uno scienziato per parlare di fantascienza a fumetti, di quanto c'è di scienza nell'invenzione del fumetto e di quanto poi la fantascienza inventata ha preannunciato nella scienza è stato un bel percorso, ricco e spero che i ragazzi abbiano avuto un bagaglio da portare avanti Lucia Nicelli, quindi un bilancio positivo di questa iniziativa? Assolutamente, io rappresento la Fondazione Operapia Iacono Avellino Conte che ha creduto fortemente quest'anno nel progetto fumetto che io le prospettavo è stato un po' in memoria di Andrea Pazienza, è tutto partito in maggio e ha trovato una degna conclusione grazie all'apporto di Marco Ferrandino che in occasione di nuvole sull'isola ha rappresentato quel valore aggiunto che ci ha consentito di poter entrare in contatto con una serie di personalità interne a questo ambiente ringrazio naturalmente l'Istituto Telese che attraverso un'azione attiva compiuta dagli studenti e col coordinamento dei docenti ha avuto una parte rilevante anche per quanto concerne proprio l'ultimo appuntamento perché è lì che, come anticipava Marco i ragazzi hanno presentato una brochure di propria realizzazione devo dire anche la scuola media di Casamiccio l'ha partecipato all'evento con una propria delegazione e il comune di Ischia ha fortemente creduto in questo evento quindi è veramente un bilancio positivo assolutamente